Musica Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di Terratech Ragazzi, vi avevo detto nello scorso video che in questo video qui saremo andati a continuare le missioni della Geocorporation Però non so perché mi è presa male E ragazzi, io ho deciso così di punto in bianco, totalmente accadendo, prendiamo questo robottino che è più utile Di ricreare appunto un robottino che serve per volare Ehm, lo so, c'è già uno pronto C'è questo qui ragazzi che oltretutto si è pure incastrato Ma che cavolo, ok, oh mio dio Però vola, però vola Ragazzi, faceva schifo decisamente E quindi lo voglio rifare Cioè, volevo in verità farne un altro Questo qui lasciarlo in vita Però a guardarlo ragazzi È da distruggere Detto chiaramente è da distruggere Eh, detto questo ragazzi Vi dico subito cosa faremo nel prossimo episodio Che io ovviamente ve lo dico, poi non si sa mai perché si è già scoperto nei video miei Che io dico una cosa e faccio tutto tranne che quello Vorrei ragazzi provare a fare o un elicottero o un razzo Dico forse perché comunque non so nemmeno se è fattibile In realtà sto cercando di andare più a destra Ma non curva questo robo Quindi magari devo anche rimeditare con le ruote E quindi ragazzi, boh, se riesco a farlo è una figata anomala Se non ci riesco pace Comunque Ragazzi, allora Io sentivo dei rumori strani intorno a me E poi ho visto crescere un albero Oddio È veramente cresciuto Ma aspettate, non riesco a curvare Dio mio No, allora Se faccio così Beh, ok, ha funzionato Più o meno ha funzionato Oye ragazzi Hanno Quello aggiornamento hanno messo che si ricreano gli alberi Questo qui mi è cresciuto palesemente davanti Che figata Comunque, vabbè Cominciamo col rifare il robottino Allora Mi avete dato tantissimi consigli ragazzi Perché appunto è uscito il video E quindi voi giustamente mi date consigli Continuate così ragazzi Che vi voglio tanto bene Allora detto questo Io ora mi allontano un pochettino Perché non voglio Ecco, il rumore del raggio E Prima di tutto vado a sostituire la batteria Ovviamente prima l'ho caricata la batteria E poi me la stacco Mi sembra la cosa più giusta da fare Perché ragazzi abbiamo le batterie dell'aventure Ma attenzione Ne ho soltanto una Ne ho soltanto una Perché appunto le altre Lasciamo stare ragazzi Lasciamo stare Le altre non si possono comprare Ora Mi avete detto Metano Guarda che In teoria se tu ci devi Dato mi avete detto Che era tipo una struttura fatta di merda C'era anche un blocco extra Vabbè Abbastanza easy Ho staccato qualcosa di troppo Cos'è prima di vederlo Ok Sono i led sotto tamarri Che ragazzi I led sotto tamarri Per quanto possano essere belli Per ora non vanno messi Perché comunque va In teoria Ripeto in teoria Vanno ad appesantire il tutto Quindi per ora non li mettiamo Detto questo Qua c'è un blocco Che non serve assolutamente a niente Quindi per ora lo stacchiamo E lo buttiamo così Ehm Ok Si leva anche questo Ragazzi Purtroppo le taniche È un po' un casino Qua detto sinceramente Forse questo qua Lo posso mettere a qualche parte Si lo posso mettere dietro Così Dovrebbe funzionare lo stesso Dovrebbe funzionare lo stesso Ehm Beh proviamolo Però vorrei prima Girare un pochettino Questa cosa qui Che deve segnare verso l'alto La batteria mancante Ok perfetto E proviamo un po' così B Andiamola a caricare intanto Perché se no ragazzi Si distrugge tutto Ehm Vediamo se queste batterie qui Si caricano Oh mio dio Già carica Forse contiene anche di meno Non lo so Allora Già facendo così Vediamo se funziona Allora ragazzi Consuma sicuramente Molto meno rispetto a prima E posso volare Guardate riesco quasi a volare Perché si ricarica subito Mentre invece Come era messo prima Ehm Non riusciva a volare Oh mio dio Però qua Non riusciva a volare Perché praticamente Premendo shift Si andava a consumare subito Le taniche E intanto è troppo pesante dietro Si vede benissimo Si andavano praticamente A consumare subito le taniche Quindi era un po' un casino Quindi ok Almeno funziona ragazzi Almeno per ora Si riesce veramente a volare Se premo tipo shift di continuo Che succede? Fa il giro della morte E poi fa così Ok Non è grave come cosa A questo punto Vediamo se riusciamo a rimanere in aria E tornare a casa Allora casa dovrebbe essere qua davanti Quindi allora Proviamo a girare intanto Perché ragazzi Girare ho visto che una cosa No dai ma C'è lo stabilizzatore Ragazzi secondo me Perché guardate Vedete Su come faccio una manovra Subito mi riporta davvero prima Ed è una cosa un pochettino Traumatica Comunque riguardo alle elli Che mi avete detto Che bastava tenere premuto All'w Però il fatto è che Quando andavo in aria Si staccava ragazzi Quindi non so Ora andiamo a vedere un pochettino Se con l'ultimo aggiornamento Hanno fissato qualcosa Io sinceramente ci spero Comunque questo qui Non è volare In effetti forse Ci ho messo troppe ali Perché è troppo leggero davanti Troppo E in fondo È tipo troppo pesante Quindi cerchiamo di fare così Vedete Su come faccio così curvo Un pochettino Si raddrizza subito Quindi Voglio provare a fare un volo Senza stabilizzatore Magari proprio lo abbandono Qui di cattiveria E ci metto questo davanti Vediamo ora senza stabilizzatore Com'è Non si stabilizza Giustamente Giustamente Non si stabilizza Ed è una merda ragazzi Perché tipo Ok facciamo così Ed è tipo troppo pesante dietro In poche parole Ora senza stabilizzatore Ed è un pochettino Una cosa brutta Praticamente non riesco a curvare Ah e si è già consumato tutto Ragazzi queste batterie qui Saranno pure Più belle e leggere Però Fanno un po' cacare eh Di durata Quindi allora rimettiamo La robottina qua No Sbagliate un pochettino di cose Tipo la bolla Doveva stare dietro E questo davanti così Magari Attaccato però Ecco così Non so se l'ho attaccato Ben di rivero Ma non è nemmeno tanto importante Allora andiamola a caricare Comunque Qua c'è un albero Con una luce strana rossa Non so se Ah si anche gli altri C'hanno una luce strana rossa Non ci avevo mai fatto caso Sinceramente Comunque Ricarichiamoci un attimo Le batterie Così almeno ci ripariamo In caso ce ne fosse bisogno Questo qui c'è il modo Di attaccarlo Oh si c'è anche il modo Di attaccarlo decentemente Come Penso Si dovrebbe attaccare No È sempre torto Ok Così è attaccato bene Ok ragazzi Come posso fare Per renderlo più leggero In fondo Non lo so Sinceramente Potrei intanto Provare magari A levare queste ali Qui extra E vedere come si comporta Così che S'omiglia Un po' di più A un aereo Non tantissimo Però un po' di più si Allora Intanto Noto che Se faccio così Non decolla E se premo shift Va verso il basso Va verso il basso E si schianta tantissimo Dio mio Ragazzi Questi qui ovviamente Sono tutti test Comunque andremo A collaudare per bene in tutto Allora praticamente Ho notato una cosa È buona questa tattica qui Ovvero Le ali servivano Però il fatto è che Mettendo le ali davanti Cosa che ci deve assolutamente essere Si va a leggerire troppo Davanti E diventa troppo pesante dietro Quindi probabilmente Potrei provare A aggiungere altre ali Anche dietro Alla fine ragazzi L'estetica Che se ne frega Ci lavoreremo in futuro L'importante è fare Per il momento Qualcosa che sia decente Quindi finalmente Le posso comprare Questa è la destra Prendo anche la sinistra Che forse è questa Ok left Eccola qui Ehm Per tutte le altre cose Sinceramente non so Se potrebbero servire A qualcosa Allo spoiler Ragazzi Il piano di agergi Non so se servono Effettivamente Per ora Proviamo così Allora Torniamo un pochettino indietro Leviamoci dallo shop Premiamo la nostra Bellissima lettera B E questa cosa qui Per il momento Lo spostiamo davanti Lo spostiamo davanti Perché dietro Bisogna assolutamente Andare a mettere Un altro blocco Della Venture Ok mettiamolo questo Non lo mette Ah questo è lo shop Ma io non volevo lo shop Ok Ok Ora ci sono in teoria Vediamo Venture Ok si perfetto Ora funziona Non so Mi aveva aperto lo shop A caso Ehm Sinceramente non so se Vabbè io ne metto Ne metto due Magari dietro è meglio Ovviamente lo richiudo Allora andiamo qui Mettiamo tipo Le le ali Che non ci sono le ali Perché sono della GSO Ecco appunto Che poi che cosa triste Perché le ali Dovrebbero essere Della GSO Se effettivamente Le cose per volare Lo fanno Quell'altro Io questa cosa qui Sinceramente non l'ho capita Però chi se ne frega Penso vada bene lo stesso Detto questo ragazzi Mettiamo anche le ali A sinistra Che ne ho comprata una Che non serviva effettivamente Perché ce l'avevamo già E qua noto Una roba strana Però vediamo una cosa Dell'aventure Tipo Ah l'aventure C'ha anche le ali Ok Quindi in teoria Questa roba qui Che è dell'aventure Forse è anche più leggera Ed è meglio Mmm Mmm Ma dovrei utilizzarla Forse Ma io non lo so Io uno ce lo metto Quasi quasi Però vediamo come sono Questo è bello Uh questo è bello grosso Ci sta Ci sta Mi piace Mi piace Ok Ha un po' di ali Messe a caso Qua ci sono Dei blocchettini extra Ma alla fine Non saprei dove metterli Il turbo lì Ci sta alla fine Si è già scaricata La batteria Questo se non sbaglio Un qualcosa da mettere davanti Si Sembrerebbe da mettere davanti Ragazzi Perché dietro Non avrebbe senso Però sinceramente Non saprei come metterlo davanti Una roba simile Si guardate Presemente un pezzo Da mettere davanti Che sarebbe per tipo Tagliare l'area In modo easy Però davanti c'è già Questa legge qui Quindi Non saprei Penso Penso si possa trovare Che così Sinceramente Si può provare Si può provare Allora Ok Ho failato Struscia dietro Struscia dietro Quindi Le ruote Le sposto Più indietro possibile E Queste Prova a metterle Un pochettino Più laterali Così Chissà se funziona Beh oddio È una cosa sicuramente Che ha il suo stile Ed è fatta in modo Abbastanza strano Questo non lo metto in dubbio Forse è sempre troppo Ripeto Troppo pesante In avanti Comunque guardate Che schifo queste batterie Ragazzi Veramente Ora Sarà pure Che questa roba qui Consuma un bordello Però insomma Allora guardate Ehm Beh oddio Vola Vola Molto meglio Rispetto a prima E si riesce E si riesce Anche a fare Cosa decente Allora Alla giù c'è un robottino Proviamo a curvare Però ragazzi c'è il problema Che non curva Mi sta sparando Mi sta sparando Ok Vediamo se riesco A planare in modo decente Ragazzi è un po' un casino Ve lo giuro Voi lo state guardando il video Quindi forse non vi rendete conto Ma è veramente un casino Curvare Perché non ci sono gli stabilizzatori E quindi Oh mio dio Cosa sto facendo Però almeno non precipito Almeno stiamo veramente volando Mentre la scorsa volta Che l'abbiamo provato Non stavamo effettivamente volando Perché non si poteva definire Un volo quello lì Ora invece guardate Non tocchiamo nemmeno terra Quindi quindi ragazzi Ok perfetto Siamo riusciti a non toccare terra Però lui mi sta sparando ancora Non so quanta batteria ho E vedete Il tempo di Insomma Di recuperare l'energia Che appunto la ricopriamo E non riusciamo a toccare terra Perfetto Il problema è Ripeto nelle curve Che guardate come sono Una cosa anomala E non si capisce per niente Vabbè a questo punto ragazzi Mi sta catterando in un modo lezzo Così Ah io fa malissimo però Meno male che abbiamo le batterie E È un casino pure curvare Con questo robottino Non ve lo nego Secondo me c'è un problema Cioè Sicuramente c'è un problema A parte Quel fatto lì Del Queste cazzatine qui ragazzi Insomma delle ruote E robe varie Proprio non curva Non curva questo qua Ma non Non dico tanto in aria Perché in aria Vabbè fosse quello il problema Proprio una volta che sta a terra Continua a non curvare E quello è un grosso problema Comunque Io voglio vedere una cosa Se proprio ce lo stacco Mentre sono in aria Questo coso qui Cosa succede Ok Che mi schianto E una volta che mi sono schiantato Ah ma vedete Ora curva Ora curva E Sì guardate come funziona bene ora Senza lo stabilizzatore Cioè sarà pure un casino da fare Però ragazzi Ok A terra in modo anomalo Lo stabilizzatore è veramente una schifezza Questo qui secondo me serve Per cose come elicotteri Che devono stare tipo Fisse in quella posizione lì Non per queste cose qui Tipo gli aerei Per gli aerei secondo me È la cosa più sbagliata da fare E detto sinceramente A questo punto Voglio provare quindi A fare un volo di test Perché vedete Guardate Vi ricordate come Nessuno riusciva a curvare Guardate anche prima Quando tiravo non curvavo Guardate ora come curva bene invece Va perfetto Quindi voglio provare a fare un volo così Anche se so che sarà una cosa abbastanza anomala No in verità si guida bene ragazzi Oddio Bene un parolone Ok Però vedete Riesco Più o meno A fare cose Dovrei farci un pochettino l'abitudine Quello non lo metto in dubbio E magari non è proprio bilanciato benissimo Ma per quello ci possiamo ancora lavorare bene Cioè c'è tempo comunque per lavorare su queste cose Allora potrei mettere altri ali Potrei farlo veramente grosso Il teore più grosso è Più si governa meglio Vedete ora Tipo se voglio girare a destra Faccio così E più o meno Curvo Ma più o meno Ma molto più o meno No ragazzi Secondo me serve un oggetto per curvare in aria Secondo me le ali queste qui e basta Non servono a nulla Serve qualcos'altro secondo me Vabbè Comunque perlomeno Abbiamo visto che riusciamo a volare Per il prossimo episodio ragazzi Voglio assolutamente fare un razzo Però io continuo a vedere Che si impenna in avanti Questa cosa qui a me non va affatto bene Quindi voglio risolvere questa cosa Allora ragazzi Ho visto che levando le due ali davanti E mettendo l'elica qui Comunque riesco più o meno A farlo funzionare Infatti guardate Quando premo shift E vabbè Se tipo lo premo così un pochettino L'elica gira pochissimo Quindi alla fine non va a influenzare nulla Comunque guardate Come si guida molto meglio Senza quei pesettini di davanti E poi comunque quando finisco il carburante Se continuo a premere shift Si aziona l'elica Che più o meno me lo tiene Stabile in aria Senza anche benzina Guardate che figata E comunque guardate 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 Vedete Posso fare dei voli più che decenti Senza benzina Perché non abbiamo più carburante Ed è una cosa tipo spettacolare Ovviamente se tipo siamo così E ce lo spingi indietro E non c'ha molto senso Però ecco Più o meno ragazzi Possiamo dire di aver fatto un elicottero Che possa funzionare Un elicottero Un aero che possa funzionare Ora nel prossimo video Non so ancora se andremo a fare un razzo Che poi probabilmente sarà una missione fallimentare Oppure un elicottero L'elicottero si può in teoria Fare benissimo con questo blocco qui Mentre il razzo ragazzi Non possiamo permetterci di metterci questo pezzo Perché appunto È troppo costoso E se non sbaglio Non si può nemmeno comprare Quindi è meglio evitare Ecco Guardate tipo in questo caso Qui ho sbagliato io Perché E mi stavo anche tornando indietro Perché praticamente Quando ho finito il carburante Che non lo spingeva più in avanti Ho lasciato inclinato Indietro L'aereo E quindi praticamente L'elica lo spingeva così Invece se io tipo Lo faccio in modo tattico Magari che vado prima molto in alto Così E poi tipo Lo spingo un pochettino in avanti In modo lezzissimo Sta tornando indietro Perfetto Giustamente Potrei anche mettere davanti L'elica Se è chiaro Però Tipo io sono un tipo alternativo E anzi Non ce la voglio provare a mettere davanti Casomai funziona anche Ed è figo Vediamo un pochettino Però Comunque così è bellissimo A mio parere Se non si schiantasse Ovviamente Allora ragazzi Ho fatto una lezzata di quelle anomale Praticamente ho levato questa cabina qui E ci ho messo quella standard Della GSO E in poche parole Così posso attaccarci il pezzettino davanti Perché con l'altra invece Non ce lo poteva attaccare il pezzettino Perché come tutti voi saprete Non si possono attaccare i blocchi In quella lì Quindi in teoria Ora così Dovrebbe funzionare Giustamente Puoi smettere di funzionare Ma se premo shift Guardate come avete detto Che continua a girare l'elica Continua a girare In teoria anche senza carburante Vediamo Si esatto Continua a girare senza carburante Quindi guardate Funziona perfettamente Ragazzi L'aereo Funziona Al 100% E andando così Io posso andare avanti Quanto cavolo mi pare Ora C'è a dire una cosa Tipo Non saprei sinceramente Come curvare Questo è un problema Quindi ci provo così Nei giochi in genere Si curva così Con gli aerei Però Mi farò male Mi farò male Vabbè ok Però alla fine Più o meno mezza curva Ce l'ho fatta a farla E quindi ci sta Alla fine Guardate ragazzi Se so che la base In linea d'aria Sta da questa parte Alla fine Non è così difficile Mi basta mirarla un pochettino Decollo Oddio Oddio L'ho combinata E più o meno Ci arrivo Se non faccio casino in aria Quindi premo shift E sbam Ragazzi Si vola Verso casa proprio E così non importa Se è lontana 5 metri 20 chilometri E robe varie Arriveremo sicuramente Al 100% a casa Il fatto del turbo È una cosa in più Sinceramente Che ci fa andare più veloce Quando ce l'abbiamo Però alla fine Sti cazzi Guardate E come si atterra Ora vi farò vedere Come si atterra la metano Un modo un po' anomalo Così Si precipita E si Rischia di distruggere l'albero E la fauna intorno La flora E la fauna Anche se Infatti gli animali Però non ci sono Però Dettagli Dettagli Detto questo ragazzi Finalmente siamo riusciti A fare il nostro robottino Purtroppo ragazzi Come si è visto Non posso utilizzare Questa cabina qui Anche se è bellissima Però Non è compatibile Con questi pezzettini Perché appunto Non possiamo Metterci blocchettini Davanti Quindi un po' Mi dispiace Ma nemmeno troppo Sinceramente Anche se è una cosa Un po' antiestetica Devo dire Però che se ne frega L'importante è che sia funzionale E devo dire che abbiamo fatto Grossi passi avanti Perché noi ragazzi L'ultima volta Un coso così Ce lo sognavamo Proprio fatto così bene Che potesse funzionare Detto questo vi ricordo Che nel prossimo video Faremo sempre questi esperimenti Lezzissimi Spero che questo video Vi sia piaciuto Ed è Ciao a tutti